Ben trovati nell'angolo dello sport. Adesso il mio regista Leo Di Blasio farà vedere una foto qui sullo sfondo, eccola qui. C'è la maggioranza totale della Pescara Calcio, 50% circa più o meno Sebastiani, 30% circa più o meno Giannascoli e poi c'è Bancoschi ed altri che hanno la percentuale rimanente. La domanda che mi pongo io è questa. Prego gli sportivi e i tifosi che sono all'ascolto di considerare che questa è una mia personale riflessione, ribadisco, personale riflessione che non è stata sollecitata né dal signor Sebastiani, né dal signore Giannascoli, né da qualsiasi altro socio del fino a 1936. La mia riflessione è dettata a questa cosa. Finito l'incubo, perché oramai tutti abbiamo somatizzato la retrocessione, ancorché sia avvenuto in un modo terribile perché stiamo toccando tutti i punti negativi della stagione calcistica di Serie A, mi chiedo se per il prossimo anno, dovendo giocare in Serie B, non sarebbe opportuno che i due maggiori soci trovassero la possibilità di un accordo. Di un accordo inteso in questione non è detto che debbano amarsi, che debbano fare sfoggio di delicatezze, assolutamente. Possono benissimo stare come dei separati in casa, ognuno nel rispetto del ruolo, ognuno facendo le cose che è capace di fare con le proprie competenze. Sebastiani è abile nel fare le operazioni finanziarie, Danilo Iannascoli, secondo il mio modesto parere, è abilissimo nel tenere i rapporti con l'ambiente, con i tifosi, con gli sportivi. è un uomo capace, è un creativo, sa come gestire certe situazioni, certe realtà, ha una competenza nazionale ma anche internazionale, vorrei dire, di gestione di un club calcistico, anche se calcio a 5. In definitiva credo che siccome il danno più grosso che è stato fatto, sempre a mio modesto avviso, non è tanto il retrocedere, perché si può andare benissimo dalla A alla B e ritornare in A, come ci insegnano molti club inglesi che con tanta tranquillità e senza nessun dramma passano da una categoria all'altra. Ma il grosso danno che è stato fatto a Pescara è quello di aver spaccato la tifoseria. Una tifoseria che ieri si è riunita per ricordare un loro personaggio carismatico, una tifoseria che era il fiore all'occhiello della Pescara sportiva, io ricordo i tempi di Agradi, di Angelo Manzo, ricordo i tempi in cui Pescara era un fiorire di club biancazzurri e poi tra tutti questi club emerse la forza irripetibile dei Rangers. Vedere adesso questo gruppo parcellizzato, frazionato, diviso, senza nessuna vera, vera, forza, mi dispiace. E allora chiedo, se la società riesce a unirsi un pochino, la società potrebbe dare lo slancio affinché i tifosi si riuniscano ancora di più e meglio sotto l'egida dei Rangers. È tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento al regista Leo Di Blasio, appuntamento alla prossima edizione di TV Cosporta.